Salve a tutti, mi chiamo Federica Rotini e sono una ex studentessa di lingua giapponese dell'Università di Torino. Attualmente vivo a Tokyo e lavoro per Berilla Japan, dove mi occupo soprattutto di supply chain management, gestione della qualità e gestione delle pratiche doguanali per quanto riguarda tutte le merci in entrata dall'Italia al Giappone. Mi sono laureata all'Universo di Torino nel 2010, dopodiché ho deciso di venire subito in Giappone per approfondire lo studio della lingua, ma soprattutto per lavorare nel marketing. Sono stata qui nel settore del marketing all'incirca per tre anni, dopodiché ho deciso di concludere il mio percorso di studi e sono tornata in Italia e mi sono laureata in magistrale sempre a Torino nel 2016. Nel complesso il mio percorso accademico presso l'Università di Torino è stato molto soddisfacente, non soltanto dal punto di vista della didattica, ma anche perché mi ha dato la possibilità di accedere ad un Master in Business Administration nell'autunno del 2017, che mi ha dato una formazione quasi completa per quanto riguarda la gestione del business in Giappone e per quanto riguarda fare affari con il Giappone. Una volta concluso il Master sono riuscita ad entrare in Barriera Japan e a ricoprire il ruolo che sto ricoprendo adesso con contratto a tempo indeterminato. Quindi in conclusione, nel complesso, posso dire che se dovessi tornare indietro nel tempo prenderei esattamente la stessa decisione e probabilmente tornerei a studiare la lingua giapponese all'Università di Torino. Grazie